Ciao e benvenuto e benvenuta in questo nuovo video. Io sono Michele e oggi parliamo di come iniziare a imparare il digital marketing, in particolare le Facebook Ads. Come racconto nel mio video cos'è un funnel, il digital marketing si basa su un concetto fondamentale, il funnel appunto. Cioè un processo, una serie di azioni che l'utente percorre da un'inserzione, di solito, da una fase comunque pubblicitaria, quindi una parte in cui viene a contatto con un contenuto, a un acquisto. Perché faccio particolare focus sull'acquisto? Perché il marketing fa questo, permette di vendere. Vende online, offline, in base a dove ti trovi, vende con una serie di strategie, vende con una serie di processi, di sistemi, di funnel per pericolare all'acquisto. Questo è fondamentale capirlo perché quando si parla di digital marketing non si parla di follower, like, numeri eccetera, ma si parla di aumentare i fatturati, di cash, di soldi. Ed è per questo che è fondamentale per i business. Ed è per questo che c'è un'altissima richiesta di mercato e da qui ai prossimi anni sarà un elemento fondamentale per qualsiasi ambito, per qualsiasi business, per qualsiasi ambiente dove si tratta di fare dei soldi fondamentalmente. Come dicevo, un funnel parte da una fase di traffico, quindi in cui l'utente viene a contatto con la tua pubblicità, il tuo articolo sul blog, il tuo magari video su YouTube che ti serve per vendere, da cui poi verrà veicolato in un sito web, in un webinar, in una serie di azioni di email marketing per poi andare a convincerlo ad acquistare. In questo video io voglio focalizzarmi sulla parte di traffico e in particolare sulla parte di Facebook Ads. Ho intenzione di fare una serie di video per creare una sorta di mini corso gratuito sul digital marketing per aiutarti a iniziare a imparare il digital marketing in cui in ogni video tratterò i vari argomenti. Partiamo dalle Facebook Ads e anche Instagram Ads perché poi i sistemi sono analoghi, funzionano sullo stesso sistema e lo stesso business manager, il business manager di Facebook. Perché Facebook è un elemento ormai cardine di business online perché le persone stanno su Facebook quindi ci si fa pubblicità lì fondamentalmente. Ci sono altri sistemi chiaramente online però è un modo molto facile e semplice per iniziare a orientarsi online, iniziare a creare le prime inserzioni, iniziare a creare il primo traffico per poi andare a fare le prime vendite, i primi soldi online. Questo video non sarà un video tecnico perché ho già fatto altri video in cui spiego come creare la sua prima inserzione, come installare un pixel e queste cose qua. E comunque su YouTube, su Google trovi un sacco di cose. Sicuramente farò degli altri video tecnici magari sulle CBO che sono una di quelle cose un po' più nuove ma chiaramente se tu sei all'inizio in questo momento non ti serve perché è arabo e perché sono già dei concetti più avanzati che ti servirà a studiare dopo. Ma ci tengo a darti le indicazioni migliori per aiutarti a iniziare a studiare a dovere le Facebook Ads. Quindi quali strumenti ci sono online per imparare a fare inserzioni su Facebook e su Instagram? Lo vediamo subito insieme postandoci insieme al PC. Ora la prima cosa da fare è andare su Google o vabbè io lo faccio direttamente dalla barra di ricerca di Opera, io utilizzo questo fantastico browser e cerchiamo imparare le inserzioni Facebook oppure imparare Facebook Ads. Che vabbè adesso l'ho messo tutto insieme ma diciamo è il primo modo per iniziare a capire come imparare. Quindi cerca su Google, impara ad utilizzare Google. Facebook Ads vuol dire inserzioni Facebook perché Ads sta per advertising quindi pubblicità. Ora chiaramente qua vediamo vari articoli, varie cose, vali di più, vali di meno, la maggior parte di questi vorranno venderti dei corsi. Io voglio farti vedere come trovare informazioni gratis, quindi tanto apro YouTube che lo lascio qua. Poi torno su Google e ti faccio vedere come, cosa cercare, ossia le Facebook Blueprint. Cos'è Facebook Blueprint? È un servizio di Facebook, quindi fatto da Facebook per insegnare ad utilizzare i suoi strumenti pubblicitari. Ci entriamo subito. Eccoci qui. Vedi, acquisisci nuove competenze con Facebook Blueprint. Hanno una serie di corsi gratuiti per imparare a fare le inserzioni su Facebook e su Instagram. Ora vediamo, questi erano alcuni che mi stavo guardando io con calma. Esplora per argomento. Abbiamo ad esempio How to create and manage a Facebook page for your business. Quindi l'ha incentrato sulla gestione della pagina Facebook. Ci sono sei corsi all'interno. Ora, alcuni li troverai anche in italiano, alcuni solo in inglese. Quindi se non sei in inglese dovrai fare uno sforzo. Però è importante impararlo perché la maggior parte dei contenuti sono in inglese, almeno nei contenuti gratuiti. Questo, se tu superi la barriera dell'inglese che io avevo, vedrai che ti darà una marcia in più veramente enorme per poter migliorare le tue capacità, le tue conoscenze nel mondo del digital marketing. Come creare e gestire un account Instagram per la tua azienda. Guida dettagliata alla creazione di inserzioni Facebook dalla pagina. Prima che passi con la pubblicità su Instagram. Come modificare e migliorare le tue inserzioni di Facebook. Come far crescere la tua azienda con Facebook e Instagram. Vedi che qua ci sono un corso, un corso, 18 corsi. Come iniziare a usare gestione e inserzioni di Facebook. Ecco, magari andiamo su questo. Visualizza i corsi. Come iniziare a usare gestione e inserzioni di Facebook. E abbiamo tre corsi. How to get started with Facebook Ads Manager. Gestione e inserzioni ti offre funzioni più efficaci per gestire più inserzioni, gruppi di inserzioni e campagne. Questo corso ti illustrerà l'interfaccia di gestione e inserzioni e ti mostrerà come configurare un account pubblicitario. Questo si riferisce a gestione e inserzioni dentro a un business manager. E vedi, qui abbiamo tre lezioni. In un quarto d'ora ti vai a studiare questa parte. Poi, how to structure campaigns in Ads Manager. Facebook struttura la pubblicità in campagne e gruppi di inserzioni e inserzioni. In questo corso delineeremo queste strutture e le illustreremo con una campagna esemplificativa. E anche qui abbiamo una serie di lezioni. Cinque per l'esattezza e in una ventina di minuti hai tutte le informazioni che ti servono. How to choose a campaign objective in Ads Manager. Quindi l'obiettivo della campagna guida i tipi di inserzione e posizionamenti che sceglierai. Questo corso ti aiuterà ad allineare i tuoi obiettivi di business, eccetera, eccetera, eccetera. E qui in 17 minuti ti studi la cosa. Tornando su facebook.com slash business slash learn, torniamo alla home di Facebook Blueprint. E abbiamo altri corsi, quindi esempio la guida essenziale alle inserzioni Facebook, come creare una pagina Facebook per far crescere la tua azienda, guida essenziale post della pagina Facebook, fare pubblicità su Instagram, inserzioni su Facebook, far crescere l'azienda su Instagram, guida essenziale per trovare immagini per le inserzioni, come selezionare l'obiettivo pubblicitario, come connettersi con i clienti su Instagram, come trovare i clienti su Facebook, come modificare e migliorare le tue inserzioni di Facebook, come iniziare a usare le inserzioni di Facebook e quindi è un botto di roba. Abbiamo poi cose specifiche per Instagram, quindi the power of commerce on Facebook e Instagram, sulla parte commerciale, get started with commerce manager. Questo riguarda la parte, diciamo, degli e-commerce per Instagram. Vedi che abbiamo anche dei corsi avanzati, ora li apro nella nuova scheda e arriviamo a facebookblueprint.com slash students slash catalog, quindi abbiamo tutti quanti i corsi possibili e immaginabili in varie lingue. E qui abbiamo roba veramente avanzata, questa è forse la parte più interessante. Andiamo in browse. e questo è tutto in inglese, purtroppo o per fortuna, per questo se riesci a superare la tua battaglia contro l'inglese è molto utile perché ti permette veramente di accedere a una serie di risorse incredibili. Vedi anche solo per la parte di advertising abbiamo 20 minuti, 10 minuti, 10-15 minuti, 15 minuti, 50 minuti, eccetera, per imparare a fare advertising e va avanti, vedi che view hall c'è ancora roba. targetizzare il pubblico giusto, costruire considerazione del brand, guidare la considerazione, generare lead, promuovere la tua app, aumentare le vendite online, gestire le inserzioni e dice veramente veramente un sacco di robe. How to buy Instagram ads, 15 minuti, Instagram for business, 25 minuti. What's new? Vedi lo aggiornano continuamente quindi gli aggiornamenti di ottobre. Ci chiede il login per accedere al catalogo completo. Make the most of marketing insight, delivery actionable, media... Insomma, questi sono gli aggiornamenti, ok. La cosa carina è che ci tiene traccia anche di quello che studiamo e tutto quanto. Qua abbiamo una serie di sottocategorie sugli argomenti, quindi possiamo cercare i corsi che ci interessano in maniera più snella, più semplice. Qui in piano trovi i corsi che stai studiando, io vabbè in questo momento non ce n'è nessuno. Puoi anche chiedere l'assistenza, dare dei feedback riguardo al tutto e quindi segui i passi che ti dà e gli chiedi, fai tutte le domande che vuoi. Domande frequenti, anche quelle sono molto utili. Ulteriori informazioni se ti serve. Molto interessante, tornando su facebook.com slash business slash learn, che puoi ottenere delle certificazioni. Quindi mostra le tue competenze e ottieni qualifiche verificate. Questo potrebbe esserti utile se poi vuoi dimostrare vendendoti a un'azienda che ti vuole assumere o vendendo il tuo servizio. Se vuoi avere, diciamo, delle certificazioni da mostrare, Facebook ti permette di farlo. Ora io ho delle grosse riserve sulle certificazioni in generale perché sono tutto niente, nel senso che sono certificazioni basic sulla conoscenza di degli strumenti, però ottenere risultati nel marketing è tutta un'altra cosa. Però ne parliamo dopo. Vedi esami per la certificazione di Facebook, qua ti spiega un po' tutto quanto. Adetto al marketing digitale certificato da Facebook, professionista della pianificazione di contenuti multimediali certificati da Facebook, professionista degli acquisti di spazi pubblicitari, sviluppatore di prodotti pubblicitari, sviluppatore di pubblicitari certificato 2, sviluppatore di prodotti pubblicitari certificato 3. Questi 3 in particolare sono cose tecniche che riguardano l'API e che in questo momento a noi non ci interessano. Ora, questo ti dà una panoramica sulla parte tecnica. Già studiandoti le cose qui puoi imparare un sacco di robe. Però non basta perché? Perché tendenzialmente Facebook ha delle sue idee su come utilizzare i suoi strumenti che puntano a farti spendere perché lui vuole che spendi. Non sempre sono le cose migliori da fare. La parte più strategica è importante impararla anche da fonti non di Facebook, fonti di persone che testando e studiando sono riusciti a capire ed estrarre i contenuti, le informazioni utili per arrivare ai risultati. Per fare questo è molto comodo cercare su YouTube. Su YouTube trovi Facebook, scrivi Facebook Ads e sfogliati un po' le cose. In questo momento ci tengo a non darti nomi di persone da seguire eccetera perché non mi voglio prendere la responsabilità se dicono cose sbagliate. Io nei miei video faccio anche dei video tecnici in cui spiego, racconto cose sulle Facebook Ads e quindi puoi seguire quelli se ti fidi di me. Puoi guardare i video degli altri e io non mi prendo nessuno la responsabilità se dicono qualcosa di sbagliato e di che c'è un sacco di personaggi vari. Una cosa utile che puoi fare è dalla descrizione entrare nella nostra community che si chiama Digital Builders. Digital Builders è una community che abbiamo creato io e altri 4 ragazzi per aiutare le persone a imparare a guadagnare online attraverso il digital marketing. Infatti abbiamo sia un gruppo Facebook in cui diamo supporto alle persone che ci fanno tutte le domande e gli rispondiamo per aiutarle a risolvere i loro dubbi, i loro problemi con le inserzioni su Facebook o con la costruzione di siti web o quant'altro. Facciamo delle live settimanali per aiutare le persone a imparare il digital marketing, a rispondere alle domande e per presentare il progetto. Infatti vedi qua c'è l'annuncio della live. Abbiamo creato un corso in particolare che serve per imparare le basi del digital marketing e come applicarle per crearti un business online, che è come iniziare a guadagnare online attraverso vari modelli di business. C'è un forte focus sull'affiliate marketing ma ci sono dentro anche altri modelli di business. E qua a video ti faccio vedere un po' il corso. Vedi c'è una sezione partita qui in cui vabbè ti viene spiegato un po' il progetto, come utilizzare i software che noi utilizziamo. che è Builderol, è un software per creare pagine web, siti web, fare email marketing e quindi tutte quelle cose che ti servono per vendere, per creare il tuo funnel. Ovviamente ora noi in questo video abbiamo parlato di Facebook Ads che è la parte di traffico, quindi per portare il traffico nel funnel poi bisogna saperlo costruire. Qua dentro noi insegniamo a farlo utilizzando gli strumenti di Builderol. Builderol costa 59,90 al mese nel momento in cui giro questo video a novembre 2019, più IVA quindi circa 73 euro al mese. In descrizione trovi il mio link per comprarlo in affiliazione, io ci guadagno una percentuale e questo ti dà accesso al corso. Se non compri Builderol non puoi entrare nel corso, quindi molto semplicemente. In descrizione trovi comunque tutte le informazioni. Sono circa 100 video, una settantina di ore di formazione. Vedi che c'è anche tutta una parte sulle Facebook Ads, cioè sia la parte di base sia la parte strategica professionale. C'è tutta una parte su un corso base con digital marketing, fare funnel, fare email marketing, lavorare con Facebook, Facebook Chatbot, lavorare con Instagram, potenziare il tuo brand, creare un corso di informazione. Come creare la tua web company, come utilizzare lo strumento funnel canvas di Builderol, come fare business con Builderol, come fare affiliate marketing con impostazioni di base e parti strategiche avanzate. appunto Facebook Ads, parte sul network marketing con vari materiali e strategie, una parte su e-commerce, quindi come costruirti un e-commerce, una parte sul mindset che è l'80% dei risultati sono dovuti alla mentalità del business e le Zoom live salvate, quindi le live online di formazione che facciamo per aiutare tutte le persone. Con altri tutor, come risolvere problemi tecnici e quant'altro. Quindi, io ora chiudo qui questo video in modo tale che sarà già durato tantissimo. Condividilo se ti è piaciuto e se vuoi aiutare altre persone a imparare il digital marketing. Trovi link per accedere al corso e tutto quanto in descrizione, trovi anche i miei social, Instagram, eccetera. Se vuoi iscrivermi, puoi iscrivermi su Instagram, lasciami un commento se vuoi altri dettagli e qua in giro ti faccio comparire dei video che ti possono essere utili e iscriviti insomma al canale e tutte queste cose qua. Spero non sia un video che ti sia stato utile, ma ne sono sicuro.